Mi chiamo Valentina Parisi, ho 21 anni e vengo da Torino. Ho scelto Chef Academy come corso di formazione perché tra tante accademie che avevo visto mi sembrava la migliore e dava una formazione maggiore. Dal momento che lavoro da sei anni nell'ambito ristorativo avevo bisogno di crescere e di migliorarmi. La parte che mi ha colpito di più di questo corso è stato l'approfondimento dei vini perché era un percorso che volevo fare già da tempo e che qua sono riuscita a trovare e penso che consoliderò nel tempo. Decido di consigliare Chef Academy perché secondo me è stato un corso molto valido e mi ha fatto crescere a me come persona e anche come professionista.